Ancora un'altra vittoria per il Teramo che qui al Bonolis batte il Sora per 3 a 0. La seconda vittoria consecutiva, l'ottavo risultato utile. Un Teramo che resta al comando della classifica con 18 punti insieme al Chieti e alla San Benedettese. È stata una gara giocata con intelligenza dal team di Pomante, una squadra che ha mostrato grande attenzione in difesa ed estrema concretezza nel reparto offensivo. Nel primo tempo i Biancorossi hanno creato diverse occasioni con Pavone, con De Gidio e con Pietrantonio ai primi minuti e poi il 42esimo ha sbloccato il risultato Menna. E Menna che ha segnato poi una doppietta perché nel secondo tempo dopo 20 minuti ha realizzato il suo secondo gol, la doppietta personale. E all'ottantunesimo il 3 a 0 siglato da Turet che ha messo definitivamente al sicuro il risultato. Il Sora non pervenuto, un Sora che ha giocato una gara difensiva senza rendersi mai pericolosa, ma merito soprattutto del Teramo che ha giocato una grande gara ma soprattutto con grande attenzione in difesa. Da tre domeniche i Biancorossi non subiscono gol. Un Teramo dunque che cavalca questo entusiasmo, un Teramo che non conosce ostacoli, un Teramo che ora è in alto in classifica per l'entusiasmo degli oltre 2000 presenti qui al Bonolis. Scendiamo ora nello spogliatoio per ascoltare le dichiarazioni del tecnico Marco Pomante. Allora mister, non era facile vincere la seconda gara consecutiva ma soprattutto una gara giocata con intelligenza del Teramo che ha mostrato grande concretezza in avanti, grande attenzione in difesa. Sì, innanzitutto ci tengo a dedicare questa vittoria a Mauro e il nostro magazziniere perché ieri ha avuto una perdita importante in famiglia. Con questa vittoria gli vogliamo dimostrare veramente che gli siamo molto vicini, ci teniamo tantissimo io in primis e tutta la squadra a dedicare questa vittoria. Per quanto riguarda la partita, oggi è stata una partita ad alta intensità tecnica, insomma è tutto mentale come metto tu perché veramente abbiamo fatto una partita ordinata sia in fase possesso che in fase non possesso contro un Sora che al di là del risultato si vede che è una squadra giovane che sta a giocare a calcio, è una squadra organizzata che non ci ha messo in difficoltà non per demerito loro ma per bravura nostra perché veramente oggi è stata una partita forse non perfetta perché nel primo tempo, gli ho detto ragazzi nel primo tempo non puoi finire la prima frazione giocata in questo modo creando veramente tante occasioni da gol, soprattutto entro la realtà piccola, finire il primo tempo solo sull'1-0 perché poi le partite sono strane, avete visto domenica anche il Sora cosa è successo, però questo è il pello nell'uovo che si fa cercare, che deve cercare se è un allenatore, però grossa prestazione dei miei ragazzi.